Continuità dei programmi precedenti da un lato con tanti cantieri già avviati che man mano si stanno realizzando ma anche nuove idee e progetti da mettere in campo per l'amministrazione comunale targata Francesco Re che dopo la rielezione dello scorso giugno ha chiuso il 2022 con un bilancio positivo. Molte le nuove iniziative che puntano a consolidare ed incrementare quanto si inquifatto sia potenziando i servizi ai cittadini sia sostenendo la crescita dell'economia locale. I progetti in cantiere sono tanti, intanto abbiamo avuto la bella notizia che tutti e cinque i progetti che avevamo presentato per il rafforzamento dell'attività di digitalizzazione dei servizi comunali un'attività che è destinata a semplificare parecchio l'accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini sono stati tutti e cinque finanziati e quindi adesso bisogna dare esecuzione a questi cinque progetti. Abbiamo concluso il 2022 con la sottoscrizione del contratto di concessione delle aree demaniali del porto turistico e quindi anche queste sono attività che stanno rapidamente andando avanti e abbiamo proprio in chiusura le ultime ore del 2022 provveduto a perfezionare l'incarico ad un tecnico che curi l'attività di rilevazione delle condizioni sismiche, di vulnerabilità sismica dell'immobile Ex Maria Gomez, scuola elementare Ex Maria Gomez destinato a diventare casa della salute quindi destinata ad ospitare una serie di servizi ambulatoriali, diagnostici e insieme ad essi destinato anche ad ospitare l'attività ambulatoriale dei medici di famiglia che se vorranno troveranno là uno spazio utile per l'esercizio della loro professione quindi una serie di attività importanti da un punto di vista di realizzazioni infrastrutturali ma anche da un punto di vista dei servizi da offrire alla popolazione ma il 2023 vogliamo che sia anche l'anno in cui rafforziamo ulteriormente la nostra attività di marketing territoriale attraverso la realizzazione di una serie di eventi che ancora di più possono rafforzare il ruolo di baricentricità del nostro comune attraverso la realizzazione di un'esercizio